Inizia da qui in qualche modo il cammino di Monsignor Giovanni Massaro all'interno della diocesi di Avezzano. In realtà poco dopo, le 15.30 di domenica pomeriggio, Monsignor Massaro ha scelto di partire proprio nel suo nuovo percorso ad Avezzano dal carcere. Una visita all'interno del carcere subito dopo l'accoglienza proprio a Palazzo di Città da parte delle autorità militari e civili prima poi dell'arrivo in cattedrale. Non poteva mancare in un momento così importante anche la presenza di Andrea e soprattutto quella istituzionale perché sono davvero tante le emozioni. È un'emozione davvero molto bella che abbiamo condiviso anche con gli altri colleghi sindaci della Marsica che via via si stanno avvicinando, ci stanno raggiungendo. Io mi sono sentita di consegnare loro solo questo pensiero. Siete fortunati, Don Gianni, il Vescovo Gianni farà sicuramente bene, si farà amare, si farà benvolere, così come è caratteristico per lui amare la gente con cui si interfaccia. Quindi sarà un percorso in salita, ne sono convinta, sia per la diocesi che eredita, che viene già da un passato importante come figura di pastore molto presente del Vescovo Emerito, che per il futuro, perché Don Gianni seminerà e poi questa terra raccoglierà i suoi frutti. E dopo il saluto istituzionale in cui c'è stato anche il saluto del sindaco di Andrea Giovanna Bruno, c'è il corteo, come vedete alle mie spalle, che porta esattamente alla cattedrale di San Bartolomeo dove ci sarà poi la presa di possesso, così si chiama in termini canonici, di Monsignor Giovanni Massaro. Vi chiedo di volermi bene così come sono, io vengo qui per unirmi a voi, io vengo qui per divenire buono assieme a voi. Sono solo alcune delle belle parole usate da Monsignor Giovanni Massaro durante la sua omelia e che ha preso possesso, come da diritto canonico, della diocesi di Avezzano, dove ha iniziato il suo percorso pastorale da Vescovo. Il 23 luglio la nomina, arrivata direttamente da Papa Francesco, nel martedì di San Matteo, l'ordinazione episcopale ad Ande, in una gremita piazza Vittorio Emanuele, ieri, dopo poco più di due mesi, l'ingresso in diocesi all'interno della cattedrale di San Bartolomeo. La diocesi della Marsica ha dunque accolto il suo nuovo pastore, Monsignor Giovanni Massaro, ha voluto subito chiarire che nelle sue intenzioni c'è da costruire tutti assieme il programma pastorale in diocesi. Il programma si fa assieme con la gente, si fa dal basso, decidere assieme oggi più che mai in altri momenti della storia, ha spiegato il nuovo escovo di Avezzano, necessario per la Chiesa. Il passaggio del pastorale da Monsignor Santoro, dimessosi per raggiunti limiti di età, ha sancito la presa di possesso della diocesi. Un gesto molto semplice, ma soprattutto letto nell'ottica della fede, dove il pastorale non è un segno di potere, quanto un richiamo a servire il gregge di Dio. Da notare, ecco, l'anello che è diverso verso il popolo di Dio, per dire che Don Gianni, d'ora in poi, è chiamato ad essere pastore e guida di questo gregge. Una chiesa, quella della Marsica, grande, con oltre 30 comuni, è una storia importante, con il terremoto del 1915 che rase al suolo questa parte d'Italia e che poi è stata capace di ricostruire e ripartire. Solo una vita donata e una vita trovata, ha spiegato Monsignor Massaro, salutando i fedeli sia presenti in cattedrale che all'esterno, prima della benedizione finale, circa 130 quelli provenienti da Andria e una trentina i prelati giunti invece dalla città federiciana. Particolarmente emozionata l'intera famiglia di Monsignor Massaro al seguito, con l'affettuoso e commovente abbraccio a mamma Elena, una giornata a suo modo storica per l'intera diocesi di Andria che da oggi avrà in carica due vescovi, oltre a Monsignor Massaro, infatti, c'è Monsignor Luigi Renna, vescovo di Cerinio Alascoli Satriano, presente ieri nella cattedrale di Avezzano. L'intera cerimonia, durata nel complesso circa tre ore, è stata particolarmente seguita in diretta su Telesveva, grazie anche alla collaborazione con la diocesi di Avezzano.